A Varcato ieri sale il cancello dell'ospedale psichiatrico giudiziario Vittorio Madia di Barcellona. Vi rimarrà circa un mese in osservazione psichiatrica e probabilmente l'esame sarà decisivo per il suo processo. Veronica Panarello, la donna di Santa Croce e Camerina, accusata di aver ucciso il figlio Loris, di 8 anni, è ricoverata nella struttura barcellonese. È arrivata a bordo di un'auto delle forze dell'ordine, super scortata. Lo ha deciso il GUP di Ragusa, Andrea Reale, accogliendo la richiesta del legale della donna, l'avvocato Francesco Villardita. Il GUP in un primo momento aveva rigettato la richiesta di perizia psichiatrica. La vicenda di Veronica Panarello è uno dei casi di cronaca che più stanno facendo discutere negli ultimi mesi. La donna è accusata di aver ucciso, abbandonando successivamente il corpo in un canalone, il figlio Loris Stival a Santa Croce e Camerina. Nei giorni scorsi, nel corso dell'udienza per decidere sulla richiesta di rinviaggiudizio, la procura ha contestato alla donna, che risponde di omicidio volontario aggravato e di occultamento di cadavere, anche la premeditazione. Il piccolo, di appena 8 anni, sarebbe stato strangolato con delle fascette di plastica il 29 novembre del 2014.